Questa mattina il gruppo consigliare del Partito Democratico ha posto l'accento sulla candidatura dell'Aquila a Capitale Europea della Cultura 2019 denunciando i ritardi della Regione nel sostegno a questo progetto. Fin qui il PD, ma per il Vice Presidente del Consiglio regionale Giorgio De Matteis le cose non stanno proprio così. No, per quanto mi riguarda e per quello che ho conoscenza diretta dell'argomento, perché ho avuto già modo di contattare nei giorni scorsi, quindi non è di oggi, nei giorni scorsi l'assessore De Fanis, il nuovo Governo, cioè il Governo Monti, è stato informato già da tempo dalla Presidenza della Giunta regionale, quindi da Chiodi, e con il Ministro Ornaghi sono già avanzati i contatti per proseguire sulla conferma di questo sostegno da parte del Governo, ovviamente, e della Regione Abruzzo. Per quanto riguarda la Regione Abruzzo sarà necessario, anche da questo punto di vista, oltre che dal Governo, evidentemente, avere una conferma sul sostegno a questa proposta, che credo sia importante, se non fondamentale, per il prossimo futuro della città, ma con una risoluzione credo sia davvero difficile poter pensare che sia utile. C'è bisogno di qualcosa di diverso, di più sostanziale, e nei giorni prossimi, infatti, verrà presentata dal sottoscritto e da altri consiglieri regionali una proposta di legge che impegnerà in maniera formale e sostanziale nella Regione al sostegno della candidatura all'Aquila, capitale europea del 2019.